Ancora una volta buona giornata, ben trovati, altro appuntamento con Mr. Gadget Stories per entrare nel vivo di un appuntamento che mi vedrà anche presente per la moderazione il prossimo 18 di novembre. È il Tech Data Channel Summit, è un evento gratuito, un evento in totale sicurezza perché avviene in versione digitale. Potete già oggi, tra l'altro, iscrivervi senza alcuna difficoltà andando al sito tdevens.it, ma lo trovate anche poi nella descrizione del video. Doyle, buongiorno e benvenuto a Vincenzo Bocchi e a José, questa è la pronuncia corretta, José Diaz, allora Vincenzo Bocchi che è Advanced Solution Director di Tech Data e José Diaz invece che è Endpoint Solution Director. Allora, vi chiedo magari prima di entrare nel vivo, quali sono le differenze dei vostri ruoli? Cioè, qual è, per chi non lo sapesse, il tema Endpoint e quale invece è quello Advanced Solution? Parto da José. Buongiorno, la mia responsabilità in TechNet sono tutti i prodotti che sono di Endpoint. In Endpoint voglio di PC, tablet, smartphone, printing, supplies, tutto quello che è veramente Endpoint. Quindi, insomma, il prodotto che poi arriva anche nelle mani di chiunque per il lavoro di tutti i giorni, no? Gli strumenti che vanno a parte... La consumer, anche enterprise, ma sempre nella mano dell'utilizzatore, sì. E invece, Vincenzo, quando parliamo di Advanced Solutions entriamo in qualche cosa di un po' più tecnico. Sì, quando parliamo di Advanced Solutions parliamo di Data Center, parliamo di hardware, software e servizi che operano all'interno di Data Center, quindi sistemi e progetti complessi, e di quelle che sono le Next Generation Technologies, quindi dati, internet delle cose, sicurezza, cyber security e mondo cloud. Ecco, noi abbiamo detto che il 18 di novembre entreremo in tutti questi temi proprio al Tech Data Channel Summit. Lo dicevamo anche in altri appuntamenti, no? Tech Data una volta sarebbe stato chiamato un distributore di tecnologia, oggi invece è un partner, è un fornitore di soluzioni. Entreremo proprio in questi temi con l'appuntamento del 18 di novembre. Chiedo a questo punto a José, quali saranno, quali sarà appunto il vantaggio per chi si occupa oggi di tecnologia dentro un'azienda di essere al Tech Data Channel Summit? Buon loco, oggi purtroppo siamo in un momento drammatico, no? Per tante aziende e tante famiglie, no? Fortunatamente noi lavoriamo in un'area, l'area di Information Technology, dove c'è ancora crescita. E ci sono ancora tante opportunità di business, ma secondo me quello che sta succedendo è importantissimo e credo che noi come Tech Data, i nostri partner, i nostri clienti hanno un ruolo importantissimo in tutto quello che sta succedendo. Può fare veramente la differenza, non solo oggi, ma anche nel futuro. Se penso ai nostri clienti, i nostri clienti oggi stanno facendo già la differenza, tanti, ma si può fare ancora molto di più, aiutare tutti questi nostri clienti a implementarli una forma efficace di smart working, ottimizzare i processi, i costi, diventare ancora più produttivi, preparare end users e tutte queste aziende per diventare ancora più competitivi nel futuro, no? Dopo non ci dimentichiamo, ma perché la tecnologia, e perché è importante questo evento, la tecnologia avrà un ruolo fondamentale, un ruolo importantissimo nella ripresa dell'economia in Italia, ma anche nel mondo, no? Io credo che l'opportunità oggi di business per chi lavora in quest'area è veramente enorme. Allora, io tra l'altro torno a questo punto anche a Vincenzo, perché in realtà avrei forse dovuto fare prima questa domanda, ma la facciamo ugualmente adesso, no? Che cos'è effettivamente il Channel Summit? Per chi non avesse mai visto nulla di simile in passato e non sapesse quali sono poi i contenuti di una giornata di questo genere. Allora, Channel Summit è un contenitore di innovazione, un contenitore di innovazione che unisce quelle che sono le proposte dei maggiori marchi del mondo dell'information technology con quello che è il loro go-to-market, e quindi quello che è il loro modo di andare sul mercato attraverso sistema integrator partner fino al cliente finale. L'opportunità di quest'anno è di avere una sessione totalmente digitale che ci permette di aprirlo anche a quelli che sono i reali utenti o i reali clienti finali di quelle che sono le soluzioni che sviluppano i nostri partner. Quindi parliamo di innovazione e tecnologia, dando il punto di vista dei vendor, ai nostri partner e a quelli che sono poi gli utenti finali e clienti finali, su mondo business e sulla part and point anche mondo consumer. Io chiedo ad entrambi a questo punto, visto che avete ruoli diversi all'interno dell'azienda, qual è poi il ruolo di Tech Data nel applicare queste soluzioni? Perché da una parte c'è il cliente, dall'altra ci sono i fornitori, i partner, che tra l'altro si incontreranno proprio il 18 di novembre. Qual è il ruolo di Tech Data in questa catena di valore? Giuseppe, per il punto and point. Beh, oggi ormai non si chiama più un distributore come ero, di HNF, dove c'è solo la parte logistica. Oggi, soprattutto in questo evento, si parlerà tantissimo, ma tantissimo di servizi. Si parlerà di tecnologi as a service, si parlerà della nostra soluzione integrata in e-commerce, che permette a un rivenditor di dare la possibilità ai suoi clienti di acquistare tecnologia come un modello subscription. Si parlerà tantissimo di servizi finanziari. Oggi, il cash flow è un tema importantissimo, magari quello più importante del momento. Si parlerà di trading, si parlerà anche di configuration center. Abbiamo appena inaugurato un configuration center a San Giuliano e Melanesi. Ci sono tanti servizi che possiamo fare oggi per il rivenditor. La verità è che noi, come Tech Data, oggi per il mercato italiano riusciamo a fare tutto, end to end. Riusciamo a fornire prodotti che sono utilizzati a casa, riusciamo a vendere e a proporre soluzioni che possono essere utilizzate nel mondo enterprise. E diciamo che oggi non siamo più un distributore solo di logistica, ma avremo tutti questi servizi e li faremo vedere. Sono servizi che abbiamo lanciato un anno fa, la maggior parte, e oggi sono già maturi, e abbiamo tante parti che li stanno già utilizzando. E allora io torno anche da Vincenzo per un altro tema che credo sia sempre importante. Nel caso soprattutto delle advanced solutions, che sono la tua divisione, queste soluzioni sono alla portata anche delle piccole aziende. Probabilmente proprio la chiave che diceva José qualche minuto fa, del trasformare la tecnologia in un servizio, può aprire nuove opportunità anche alle aziende più piccole? Assolutamente sì, perché comunque oggi siamo in un percorso di grande cambiamento per tutte le aziende di tutte le dimensioni. Ma si fa presto dire trasformazione digitale. Per noi oggi il ruolo principale è quello di facilitare questa evoluzione delle soluzioni e questa evoluzione della fruizione delle stesse. Quindi l'ottica nostra è quella di andare ad aiutare tanto la piccola azienda quanto le strutture più complesse a fruire di soluzioni che sempre di più non sono soluzioni che arrivano dal classico grande marchio noto a tutto il mondo, ma sono elaborazioni e customizzazioni fatte dai nostri partner per essere proprio fruibili in maniera molto semplice. E allora direi che abbiamo anticipato alcuni dei temi che incontreremo dunque al Tech Data Channel Summit. Quest'anno ha aperto non solo ai rivenditori ma anche alle aziende. Tra i protagonisti ci saranno Vincenzo Bocchi e José Díaz. Intanto grazie e buona giornata a voi. Grazie.